Gentili telespettatori, buona giornata. Che cosa fanno i bocciati delle ultime elezioni? Che cosa torneranno a fare? C'è chi si dedicherà all'agricoltura, anche chi si dedicherà alla pastorizia, chi farà cose diverse. Adesso cercherò di farvi un resoconto un po'. Per esempio, vi ricordate la Cirinna, quella del cane con 20.000 euro? Ecco, lei si dedicherà all'agricoltura e andrà a raccogliere le olive. Non sarà lei fisicamente a raccogliere le olive, ma ci sarà chi per lei raccoglierà le olive. Beh, qualcuno tornerà al suo vecchio impiego, ammesso che ce l'abbia. Senza portaborse, né pranzi alla buvette, senza più fotografie, giornalisti. Ebbè, ci sono anche pensionati e futuri contadini, coltivatori proprio diretti con la terra. Allora, Monica Cirinna del PD continuerà il suo lavoro tra i dem. Però, senza seggio. Intanto, lei che ha una fattoria a Capalbio, si raccoglieranno le olive. Sempre nel PD, Andrea Romano dovrà trovare un'occupazione, momentaneamente disoccupato. Con ogni probabilità riprenderà la sua attività di professore universitario, quella già svolta in passato di giornalista. E poi lo troveremo di nuovo in TV come accusatore del centro-destra, vabbè. E poi abbiamo la moglie Sara Manfuso, l'ex deputato, aveva spesso il desiderio, attualmente concorrente del grande fratello VIP. Beh, insomma. C'è la possibilità di poter entrare, ma solo per salutare il familiare che è lì. A me piacerebbe molto farlo, senza partecipare al gioco. Eh, vabbè. Insomma, c'è chi vuole entrare al grande fratello. Emanuele Fiano a Sesto San Giovanni non ce l'ha fatta. E adesso dice, non smetto di militare nel fronte della sinistra italiana, ma è venuto il momento di fare un congresso vero. C'è questo cane che ce l'ha con me. Io lo so. Eh sì. Gli dovrò parlargli a quattro occhi o a quattro zampe. Va bene. Infine abbiamo Andrea Marcucci, che tornerà all'azienda di famiglia. Niente più parlamento per il Dem Filippo Sensi, al quale si prospetta il ritorno nel mondo della comunicazione come esperto. E poi abbiamo anche la Teresa Bellanova. Vi ricordate? A Bellanova, ex ministro delle politiche agricole, del Conte II, sindacalista. E che fa? Dice, lo spazio per la buona politica è dovunque, e basta solo aver voglia ed esigenza di praticarlo. Boh, che vuol dire? Non si sa. E poi abbiamo Luciano Nobili, invece punterà probabilmente alle regionali nel Lazio e continuerà ad affiancare il leader d'Italia Viva. E andiamo ai fantastici 5 Stelle. Il fautore del reddito di cittadinanza, Luigi Di Maio, doveva trovare un lavoro. Forse nel mondo della consulenza aziendale. Beh, insomma, consulente aziendale, è fantastico. E cosa va a consigliare alle aziende? Bah, insomma. Qualcuno immagina che ritorni al San Paolo come steward. Intanto dirà addio ai banchi di Monte Citorio anche Lucia Azzolina che andrà a fare la preside nell'istituto comprensivo Emanuele Giarracà di Siracusa. Beh, insomma, un bel lavoro la preside di una scuola. Un bel lavoro. Sarebbe piaciuto anche a me, insomma. Però non mi posso lamentare. E poi abbiamo Davide Cripp, anche Farà, dice non lascio la politica e guardo al dibattito nel PD. Che è che guarda? Vincenzo Spadafora si potrebbe aprire nuovamente le porte dell'impegno umanitario. Già in passato fu presidente del Comitato Italiano di Unicef. E Gianluigi Paragone che cosa va a fare? Dice troveremo spazio fuori dal Parlamento. Ma fuori dal Parlamento c'è tanto spazio, c'è tutta l'Italia. E poi dice alcuni scommettono su un suo ritorno in TV nel caso di un fallimento anche nelle prossime sfide elettorali in TV e che gli danno un programma. Mi sa di no, però, insomma. Il giornalista Sandro Ruotolo candidato per il centrosinistra bocciato dagli elettori e il cane ce l'ha con me. Abbaia, abbaia. tornerà al suo impiego di sempre facendo politica attiva di sinistra. Dice ho sempre pensato alla necessità di costruire un campo largo. Ma lascia perdere i campi larghi. Ma dai, ma lascia perdere. Vabbè, infatti andiamo a vedere Simone Pilon rimarrà al lavoro nel carroccio sempre portando avanti le istanze di cui si era fatto portavoce. Cerca di parlarmi sopra. Mi metto a disposizione del segretario del mio movimento politico e dell'intero centrodestra per continuare l'impegno nel difendere la natalità, la vita umana, eccetera, eccetera. bla 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 bla. Emma Bonino che in materia di ideali sta dalla parte opposta di Pilon aspetterà forse un riscatto alle prossime elezioni europee 2024 dopo aver chiesto un riconteggio dei voti. Intanto continuerà la sua attività ma senza stipendio. E poi chi invece non dovrà trovare un ricollocamento è Vittorio Sgarbi. battuto al fotofinish da Pier Ferdinando Casini a Bologna il professore proseguirà i suoi impegni come critico d'arte, scrittore, sindaco, organizzatore di mostre e polemista ma forse io me lo auguro perché lui è perfetto per quel lavoro diventerà ministro dei beni culturali. Lui è perfetto per quel lavoro ci mancherebbe altro. Bene, insomma io vi ringrazio ma hanno dimenticato Tony? Ma mi avete dimenticato Tony Nelli? E Tony Nelli che fa a parte la sua controinformazione su Facebook? Cosa farà Tony? Tony Nelli qual è? Lui che si definiva il miglior ministro che la Repubblica Italiana abbia mai avuto in tutti i suoi governi che farà il miglior ministro del mondo? Che farà Tony Nelli? Andrà in giro in monopattino che ne so in pensione non ci può andare e quindi? Ma lo scopriremo nei prossimi mesi sarà interessante vedere tutti questi fenomeni di questo governo che fine faranno beh di qualcuno ne abbiamo parlato vedremo anche gli altri Letta Letta rimarrà nel PD farà il il senatore bello tranquillo grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti